Dicono che l'imitazione sia una forma di ammirazione. Eila, vorreste farvi un giro? Tammy? Che ve ne pare? Ho pensato di sperimentare un nuovo look. Perché invece di sentirmi lusingata, provavo una sensazione di disagio. Mettiamo che finalmente riusciate a comprare la maglietta dei vostri sogni e il giorno dopo vediate la stessa maglietta addosso a qualcun altro. Sì, questo significa che il vostro stile piace, ma in qualche modo non vi sentite anche un po' meno speciali? Beh, vi riassumo tutto dall'inizio. Forse riesco a spiegarmi meglio. La mamma me lo diceva sempre, che sono un'artista nata. Ehm, certo! La tua opera esprime decisamente un messaggio molto comprensibile. Vuoi mostrarci il tuo lavoro per il concorso di ritrattistica, Barbie? Notevole! Accidenti! Incredibile! Fantastico! Davvero bello! Sì, d'accordo. Le mie congratulazioni! La ringrazio tanto, President Miller, per me è un grande onore! Ah! Non è possibile! Vince sempre! Che ne sanno loro? Chiunque con un briciolo di occhio artistico avrebbe scelto il mio di ritratto. Oh! Non male, amico! Bello, eh? Ovunque mi giri vedo solamente Barbie! 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 Cosa devo fare per attirare un po' di attenzione in questa scuola? Forse dovresti assomigliarle, che dici?